Il 28 luglio 1821, il generale José de San Martín, al comando della spedizione di liberazione del Perú proveniente dal Cile, dichiara l'indipendenza del Perú. Il liberatore, con una bandiera peruviana nella mano, esclama «Il Perú è da questo momento libero e indipendente, per volontà del popolo e per la giustizia della causa che Dio difende. Viva la patria! Viva la libertà! Viva l'indipendenza! Oggi, ora, invochiamo l'indipendenza dai legami delle maschere e dalle identificazioni dell'ego. Mostriamo la parte più luminosa di noi stessi, la nostra luce. Seminiamo unità, fratellanza e sorellanza per Cusco, una sola terra, una sola umanità. Oggi, ora, invochiamo l'indipendenza dai legami delle maschere e sottotitoli. Oggi, ora, invochiamo l'indipendenza dai legami delle maschere e sottotitoli. Oggi, ora, invochiamo l'indipendenza dai legami delle maschere e sottotitoli. Oggi, ora, invochiamo l'indipendenza dai legami delle maschere e sottotitoli. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.